Le matrici fermentate sono una nuova scoperta scientifica da cui ci attendiamo molto perché l'idea non è nuova, cioè quella di pre-trattare il substrato nutrizionale che noi diamo ai nostri bambini. Il vantaggio è che oggi lo possiamo fare con un metodo scientifico molto più stringente da cui possiamo poi ricavare delle informazioni e quindi ci aspettiamo ad esempio che le complicanze infettive che sono estremamente comuni nella popolazione dei bambini pre-termine, anche per la verità in quelli a termine, possono essere drasticamente ridotte con l'uso di una difesa immunitaria che è una difesa naturale, che quindi al contrario dei farmaci non presenta sostanziali effetti collaterali.